Il modo Lidio con la seconda diesis e con la sesta diesis, in tonalità di Do. Tra il Do e il Re diesis c'è un semitono, tra il Re diesis e il Mi, un semitono, tra il Mi e il Fa diesis, un tono. Tra il Fa diesis e il Son, un semitono, tra il Sol e il La diesis, un tono e mezzo, tra il La diesis e il Si, un semitono, tra il Si e il Do, un tono. Le variazioni sono il Re diesis, il Fa diesis e il La diesis.